nel video precedente abbiamo realizzato una fusione l'abbiamo applicata con la funzione sostituisci dorso della fusione che abbiamo trovato nel menu oggetto sotto fusione abbiamo sostituito il dorso per ottenere l'effetto che la linea della lettera b e venga ricoperto appunto dalla nostra fusione come potete vedere i 200 passaggi che abbiamo usato nel nostro nella nostra finestra di dialogo di impostazione della fusione hanno creato questo effetto perché il numero di pallini è troppo basso se desiderate avere un effetto più uniforme potete aggiornare le opzioni della fusione aumentando il numero di passaggi per esempio se mettiamo 500 e impostiamo anteprima vedete che l'effetto più uniforme potete arrivare fino a 1000 e vedere l'effetto che fa quindi ancora più uniforme o viceversa se volete fare un effetto più come se si trattassero di pallini uno di seguito all'altro possiamo mettere un numero più basso quindi a vostra scelta scegliere l'effetto che più vi piace ora io voglio avere un effetto particolarmente uniforme quindi sceglierò un valore di 1000 a questo punto la mia scritta la mia lettera b è stata ricoperta con questa fusione procediamo nello stesso modo creando un'altra fusione e applicandola alle altre lettere quindi ho tenuto da parte una altra fusione di un colore diverso quindi il concetto è che dovrete duplicare ogni fusione per ogni parte del tracciato se non avete un tracciato unico perché se avete un tracciato unico per esempio io disegno con il pennello una linea così incrociata la vado a selezionare vado a scegliere la mia fusione e vado a sostituire il dorso della fusione ovviamente essendo un unico tracciato non c'è bisogno di fare altro è semplicemente necessario andare a impostare le opzioni di fusione per quell'effetto che stavamo dicendo poco fa quindi aumentare il numero di pallini per rendere l'effetto più uniforme quindi vedete veramente semplice e l'altra cosa interessante di questo effetto è che la vostra struttura rimane comunque una linea quindi in ogni momento vi potete permettere di modificarla ad esempio se io prendo lo strumento a rotonda e vado a cambiare l'arrotondamento del mio tracciato utilizzando appunto la matita piuttosto che prendo la freccia bianca e vado a scegliere un punto del mio tracciato per movimentarlo in modo dinamico quindi come se voi aveste adesso a portata di mano un filo 3d che vi può seguire nel vostro percorso quindi è veramente molto utile per creare effetti di questo genere la dimensione della vostra fusione è la dimensione del vostro tracciato che andrete ad applicare alla linea quindi se volete fare un effetto più sottile dovete ridurre il numero di pallini viceversa se volete un ricoprire con un tracciato più spesso avrete una fusione di dimensione maggiore quindi adesso faccio esattamente questa operazione selezionando la fusione che ho creato di colore arancione e dicendogli di sostituire il dorso o invece se seleziono quella nuova più piccola e gli dico di nuovo sostituisci dorso quindi è veramente semplice scusate prima di sostituire il dorso se la fusione è già stata applicata dovete prima liberare il tracciato quindi dovete rilasciare la fusione precedente con la funzione rilascia a questo punto i vostri pallini potete eliminarli non avete più la fusione il tracciato è nuovamente libero e potete riapplicare la nuova fusione quindi ricordatevi di rilasciare prima di sostituire un altro dorso in ogni caso ve lo ricorderà la funzione perché quando non è possibile sostituire il dorso questa voce rimane grigia spero che questa funzione possa essere utile per la vostra creatività e vi ringrazio per la visualizzazione